Salutiamo i nostri amici telespettatori. Grazie per essere qui, al nostro ospite Giuseppe Napoli, che è presidente di Feder Sanità Anci delle Friuli Venezia Giulia. Buongiorno. 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 Bene, oggi parliamo di organizzazione sanitaria a livello territoriale, parliamo di prevenzione, perché la prevenzione è una delle tematiche portanti, una delle anche delle questioni dominanti per il buon vivere, per il ben vivere, prevenire, seguendo azioni, seguendo stili di vita corretti. E proprio in questo ambito rientra questa rete di comuni per salute e benessere, ossia si cammina. Ha sempre più successo questa iniziativa che è coordinata da Feder Sanità. Ne abbiamo parlato a suo tempo, quando ancora nella fase iniziale, ma si sta allargando, quindi tanti tragitti, tanti percorsi individuati nei comuni della nostra regione. Decisamente sì, siamo arrivati a 70 comuni, 59 percorsi, tutto questo in meno di tre anni, con un crescente interesse da parte sia dei comuni, ma anche delle associazioni, ma anche dei gruppi di cammino, ma anche, perché no, anche dei dipartimenti di prevenzione, perché dietro questa iniziativa c'è poi il tema della salute, dello star bene, e anche il tema della solitudine, perché questo fatto che la gente si metta a camminare e cammina in compagnia, spesso significa anche farli uscire di casa. E specie dopo la vicenda di questa pandemia, uscire di casa non solo è necessario, ma è quasi terapeutico, perché serve soprattutto anche a ripristinare, a volte anche i rapporti col proprio vicino. Che cosa abbiamo fatto sostanzialmente? L'idea è un'idea partita dalla regione, dal piano regionale del 2018, quindi bisogna riconoscere l'intuizione della regione. La regione ha chiamato Federsanità e gli ha proposto di avviare, era una sperimentazione. E francamente anche noi non immaginavamo di avere tanto interesse, tanto successo da parte anche dell'amministrazione comunale. Abbiamo cominciato a parlarne con i comuni, quelli sicuramente più attivi, più dinamici, ci hanno creduto subito e il primo blocco di comuni, una trentina, hanno già di fatto sviluppato queste attività e proprio ieri abbiamo avuto, nei giorni scorsi abbiamo avuto ad Artegna l'ultima delle presentazioni, ma la cosa importante è che nonostante la pandemia, nonostante questa difficoltà anche a fare le presentazioni, siamo riusciti comunque a far partire molte di queste iniziative. Ecco, tra l'altro iniziative se vogliamo, non dico a costo zero, ma poco ci manca, perché c'è solo un po' di cartellonistica e un po' di coinvolgimento anche a livello volontario delle persone e del territorio. Credo che i telespettatori vogliono sapere quanto si spende di soldi pubblici, decisamente molto poco, stiamo parlando di investimenti di qualche centinaia di migliaia di euro per tutto il progetto che viene ripartito fra una settantina di comuni e che soprattutto ha un obiettivo, quello della cartellonistica che curiamo direttamente e che riusciamo a portare sul posto, a installare sul posto, evidentemente con la disponibilità e la collaborazione degli uffici comunali che ringrazio pubblicamente e poi anche questa idea di aver affiancato nella cartellonistica la lingua italiana anche la lingua inglese, in qualche caso la lingua slovena come a Duina orisina e in qualche caso anche il friulano come a Campoformido, cioè la seconda lingua diventa la lingua che per la comunità è importante, ma dietro questa iniziativa e accanto a questa iniziativa c'è stata l'adensione convinta di Promoturismo che ringrazio per... Perché anche dal punto di vista turistico è importante, perché uno si ritrova dei percorsi già ben delineati, segnati e uno sa praticamente dove muoversi, cosa fare. E poi c'è il nuovo turismo, il nuovo ormai affermato, il turismo slow, il turismo lento, non è casuale che proprio anche questo progetto FWG Movimento rientri poi in un interreg Italia-Croazia su cui Promoturismo peraltro è un partner attivo, ma qui bisogna anche riconoscere che alla fine di tutte queste iniziative sarà l'Università di Udine, il Dipartimento Economico dell'Università di Udine che andrà a fare una verifica anche rispetto a qual è l'interesse, a qual è l'attenzione e soprattutto qual è in termini anche di risparmio e di acquisizione di benessere. Quello che posso dire ai nostri telespettatori è che noi ci attendiamo che altri comuni aderiscano, speriamo che la regione intenda proseguire in questo progetto, che è un progetto molto concreto. E poi qui la cosa che più ci ha colpito sono l'entusiasmo dei gruppi di cammino. Questi gruppi di cammino nascono spontaneamente, non c'è un provvedimento né comunale né regionale che li autorizzi. Per questo io dicevo proprio a costo zero, perché uno decide e dice vado a camminare e vado in questi posti. E alcuni sono diventati dei gruppi di cammino così ben organizzati che secondo me proprio hanno un senso di autodisciplina e addirittura determinano anche la durata del percorso, stabiliscono quante calorie si consumano. C'è una specie anche di incentivo e di crescita continua. Questo progetto ha trovato un interesse anche nazionale, sia Federsanità nazionale sia le Federsanità delle altre regioni italiane, lo guardano con grande interesse e crediamo che possa essere un buon format da portare anche fuori dalla nostra regione. Almeno noi ci speriamo. Beh, intanto l'intuizione mi pare già importante il fatto che sia stata, che sia di interesse anche da altre parti in sostanza. E poi avere un modello esportabile fa sempre piacere. Ma direi di sì, è una buona pratica a costo assolutamente... Insomma, preferirei a Giulia pilota per questo progetto come per tanti altri. Devo dire abbiamo anche un straordinario motore di questa iniziativa che è il segretario regionale Federsanità Tiziano Del Fabro, che comunque ha una capacità di avvicinamento di tutte le strutture e questo ci aiuta molto nel nostro lavoro. Ma ci devono credere soprattutto i comuni e le associazioni. Senta, Presidente, parliamo di organizzazione sanitaria, perché adesso sarà un attimo da rivedere un po' tutto dopo la pandemia, dopo l'emergenza, a livello anche di organizzazione territoriale. Da più parti si sente la necessità di rivedere la sanità a livello territoriale. E anche voi vi state muovendo proprio per quanto riguarda la presenza delle case di riposo. Vi state muovendo per una nuova organizzazione, quindi territorialità legata anche alla presenza di queste strutture. Sì, guardi, le case di riposo, noi seguiamo le case di riposo pubbliche che sono quasi la metà dei 10.000 posti letto che ci sono in regione e che rappresentano le ASP, le aziende pubbliche per i servizi alla persona e le case di riposo comunali. In realtà siamo interessati anche a quello che fanno gli altri, perché alla fine qui ne va di mezzo la qualità del servizio al cittadino. E in generale questo cittadino è un anziano fragile. Quindi il tema vero non è esattamente solo parlare di case di riposo, è parlare, come diceva giustamente lei, di territorialità. E quindi noi ci aspettiamo che proprio finita l'emergenza, e speriamo che sia veramente finita, del Covid, la Regione possa riprendere il percorso della legge di riorganizzazione che aveva di fatto avviato facendo la prima parte della legge e adesso ci attendiamo la fase 2, quella più attuativa, quella sostanzialmente in cui si vanno a stabilire quali sono le caratteristiche, le tipologie, le priorità. Noi pensiamo che questa pandemia ci ha insegnato una cosa, che se noi riusciamo a investire di più sulla prevenzione e riusciamo di più a utilizzare la realtà radicata sul territorio, penso alla figura del medico di medicina generale, che è una figura straordinaria, straordinaria nella misura in cui entra in rete. Se non entra in rete, ai noi non lo è più. E quindi bisogna fare di tutto perché questo avvenga, con le modalità evidentemente nazionali che servirà, ma bisogna assolutamente farlo presto. Bisogna rilanciare la figura, le strutture dei distretti, bisogna fare in modo che il cittadino possa fare determinate terapie il più vicino possibile e non costringere il cittadino a arrivare tutti a Udine o tutti a Pordenone o tutti a Trieste, perché anche questo è un non senso. Quindi abbiamo tante cose da fare con la regione, ma speriamo che la pandemia ci lasci un po' respirare, allenti il morso, perché se no da un anno e mezzo che parliamo purtroppo solo di difenderci della pandemia. E questo evidentemente ha rallentato molto questo percorso. Sì, e tra l'altro si è vista una prima fase, quando c'è stato il lockdown totale, poi sembrava ci si potesse riprendere e si sperava che effettivamente magari dagli errori, dalle situazioni iniziali si potesse imparare. In effetti si è imparato molto, però sul territorio c'è ancora, cioè è stato difficile attuare iniziative direttamente sul territorio per le persone che non possono uscire di casa. Ha ragione lei, però le dico anche che in questo momento, in questi mesi, l'emergenza era salvare la vita le persone. Quindi secondo me il sistema sanitario regionale, parlo della nostra regione, ha fatto la sua buona figura in questa emergenza, perché non era facile affrontare questo tipo di problema. Non c'erano, come dire, dei precedenti molto chiari e forse abbiamo anche capito quali sono i limiti. Quindi è come dire un sano esame di coscienza per cercare di migliorarle, e però, come dire, finita l'emergenza bisogna avere il coraggio di ripartire da dove siamo rimasti fermi. Un ringraziamento evidentemente a tutto il personale, a tutti i volontari che si sono adoperati in questo anno molto duro per le nostre comunità. Bene, ringraziamo il presidente di Federsanità Anci del Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Napoli. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie per averci seguito e noi con la rubrica Family Salute e Benessere ci vediamo giovedì sempre alla stessa ora. Arrivederci. Grazie a tutti.